... alla Pieve di Uragomella per l'inaugurazione di Soul Mining, una personale di Silvia Caimi all'interno di questo che è l'anno della cultura di Brescia e Bergamo. Ho curato personalmente l'allestimento, ho organizzato la mostra e devo dire che ho trovato una capacità di esprimere attraverso la simbologia dei corpi in movimento in realtà un allenamento, una ricerca nell'anima. Soul Mining infatti vuol dire scavare all'interno dell'anima. Il percorso di mostra ci porta mano nella mano da un momento di trauma che favorisce una crescita e una ricerca personale fino ad arrivare ad un Federer che è uno dei simboli più ampi, più grandi della nostra società di unione tra fisico e anima in una dedizione totale. Dietro di me vedete appunto uno dei quadri che io preferisco di questa mostra dove l'anima e il corpo si fondono con un parallelismo di quello che era la cura per il corpo per gli antichi greci. Vi aspettiamo fino al 5 di marzo qui a Breccia alla pieve di Uruguay.